Ora cedo la parola allo storico dell'arte, già dirigente scolastico, il professor Piero Marino. Il professor Piero Marino è impegnato a promuovere numerose eventi culturali di grande spessore, mostre e conferenze. Da pochi anni ha ripreso a praticare una vecchia passione, quella della pittura, esponendo a Milano, Bari e Taranto, rispondendo consensi da parte del pubblico e della critica. Prego, professore. Poi è un valente fotografo, perché Martina Barocco e Roccocò, i monumenti senza tempo, sono impreziositi da bellissime fotografie. Grazie, grazie all'assessore Scialpi, alla presidente Lucia Torricella, alla vicepresidente Gabriella Casavola. Mi fa piacere sempre parlare di fotografie, di immagini, di arte, che sono aree contigue, una vicina all'altra. È una passione, quella per la fotografia, che io coltivo da oltre 50 anni, potrei dire 60. Quando mia sorella mi regalò una macchina Eura Ferrania, che costava 3.000 lire, parliamo della fine degli anni 50, poi una caduta per terra si rovinò, prendeva luce, non si poteva più usare. Poi ho provveduto io a comprarne altre. Da ragazzo avevo la mia camera oscura in casa, con la stampante, i liquidi, i cartoncini che compravo da Benvenuto Messia, e stampavo anche io. Da docente ho sempre portato i miei ragazzi in giro a fare fotografie, ma ad avere contatto col territorio. E la fotografia era un mezzo per immagazzinare documenti, naturalmente. Da dirigente ho ottenuto anche dei corsi di educazione all'immagine, di lettura della fotografia. Ma lasciamo perdere, io non voglio parlare di me, giusto, a passare per questo viso che il discorso riguarda la fotografia. In un'epoca come la nostra, in cui anche i divertimenti, il tempo libero, sono irregimentati, costruiti e creati dall'alto, cioè ci si dice cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo comprare, come dobbiamo vestire, eccetera, eccetera, Noi abbiamo un disperato bisogno di comportamenti creativi, per uscire dal conformismo e dagli stereotipi. Benvenga quindi questa mostra, organizzata da Arte Emozioni, che dà spazio alla creatività, ai linguaggi individuali di tanti fotografi. Ogni fotografia è un testo, come un brano di prosa o di poesia, un testo da leggere, decodificare, interpretare, analizzare. Ed è ciò che consiglio di fare con ciascuna di queste foto, che tra poco andremo a vedere, perché un conto è vederle sul cellulare, attraverso Facebook, altro è vederle dal vero, nelle loro dimensioni e nella loro autenticità. Osservarle a lungo è il solo modo per capirle, apprezzarle, interiorizzarle. Osservate nel loro insieme, queste foto, questa mostra, esercitano un fascino profondo sulla fantasia collettiva e finiscono per diventare patrimonio di tutti, nostro, per arricchire il nostro animo, la nostra spiritualità. Queste immagini escono dagli spazi oppressivi e angusti del dilettantismo fotoamatoriale per lanciarsi nell'avventura del racconto fotografico, per costituire nel loro insieme un fotolibro. Si tratta di documenti poetici, espressionisti, lirico-realisti, descrittivi, momenti di un viaggio che conduce in uno spazio poetico, sublimato da immagini di rara poesia, filtrata da una tecnica spesso virtuosa. E' allora che il nostro senso estetico entra in azione. E una mostra come questa acquista senso. Se il gusto si educa attraverso la familiarità con le opere d'arte, con il gusto del bello, questa mostra ha raggiunto il suo scopo in quanto educa. Quello dell'immagine è un racconto che ha preso l'avvio con le immagini delle grotte di Lascaux, le incisioni in Val Camonica attribuite ai Camuni, nei disegni rinvenuti nella grotta dei Cervi a Porto Badisco, cioè con la comparsa dell'uomo, e che non sarà mai interrotto, almeno fino a quando l'uomo sarà vivo. Perché l'uomo cercherà sempre di dare corpo alle immagini. E' un istinto primordiale. In queste foto gli autori riversano la propria sensibilità, la propria cultura, le proprie ansie, la ricerca del bello, per regalare a tutti noi questa loro aspirazione. Del resto, la macchina fotografica è solo un medium, cioè un mezzo, un prolungamento del nostro essere. Non basta fare click. Spesso ciò che vedono i nostri occhi non è ciò che vede la macchina fotografica, sicché, ad esempio, le foto di paesaggi possono risultare frustranti, possono deludere. Bisogna disporre di un occhio sensibile, di uno sguardo acuto con cui vedere la natura, e disporre di una conoscenza perfetta delle risorse della macchina fotografica. Ma la foto richiede, come hobby, oltre ad una grande passione, anche pazienza, saper attendere e cogliere l'attimo giusto al momento giusto. Vi sono situazioni che svaniscono nel giro di pochi minuti, se non di pochi secondi, ma il fine ultimo è uno e uno solo, emozionarsi, provare stupore, conservarlo gelosamente in un click. Le foto sono finestre sull'infinito. Fotografare è riconoscere in un istante, in una frazione di secondo, un evento. Cogliere l'attimo. Fotografare è scoprire se stessi. Il fotografo, come l'artista, è in grado, attraverso le proprie opere, di restituire la bellezza della natura, a volte di creare una bellezza che la natura non mostra, cela gelosamente per mostrarla soltanto agli occhi di chi è capace di coglierla. Le foto, allora, sono emozioni imprigionate, registrate in uno scatto. Andare per fotografie, come ben sanno tanti amici, è un andare a caccia di emozioni. E solo successivamente subentra il desiderio di comunicare ad altri i propri stati d'animo, il rapporto creato con l'ambiente, con un soggetto. Ogni fotografo crea, in primo luogo, per procurare una soddisfazione a se stesso, mettersi in gioco, perché così sente di realizzarsi. È difficile descrivere nei particolari l'atto creativo, perché è inafferrabile per la sua stessa natura. L'atto creativo è l'ignoto, di cui dobbiamo riconoscere l'inconoscibilità, fin tanto che non si manifesta. Ma attorno ad ogni immagine ne nascono altre che danno vita ad un campo di analogie, sicché una foto diviene veicolo di nuove, altre sensazioni, suggestioni. Quando e perché una foto ci piace, ci prende? Sicuramente a volte basta il soggetto, un paesaggio, un dettaglio, un ritratto, un bambino, un fiore. Ma ciò a cui bisogna guardare è la duttilità del fotografo, la sua capacità di vedere ed esprimere il soggetto, la sua ispirazione, l'originalità, la sensibilità ai problemi, nelle foto di denuncia, nei ritratti, l'empatia che egli riesce a costruire con la luce, con la situazione, la capacità di sapersi calare con tutto se stesso nel soggetto affrontato qualunque esso sia. Ogni fotografia è unica, rappresentativa del fotografo, di chi ha scattato il tasto che fa click. Ci possono prendere di più o di meno, ma nessuna foto è da promuovere, nessuna è da bocciare. Tutte ci regalano uno stato d'animo, una sensazione. Certamente ci sono sguardi più colti, più esperti, più profondi, ma tutte queste immagini sono sicuramente da apprezzare. Bene, l'arte emozione ha creato questo oggetto, questa mostra, che è di là, nelle sale del Museo delle Pianelle. Cosa facciamo di queste foto? Ce le teniamo per noi? Le guardiamo noi? Le offriamo al pubblico? Il mio animo di ex insegnante, ex preside, va sempre ai ragazzi, è sempre a loro che penso. E quindi credo che bisognerebbe educare i giovani alla fotografia. Che cosa vuol dire? Che non è solo insegnare a scattare, inquadrare, ma avvicinare alla natura, avvicinare alla realtà, al contesto, alle persone, al contesto umano. E qui mi piace lanciare un invito a Lucetta Oricella, a Gabriella Casavola, all'associazione, in direzione di una proposta che vada alle scuole, siamo ancora agli inizi dell'anno scolastico, per organizzare un pacchetto di ore durante le quali, in orario pomeridiano, sempre DAD permettendo, in orario pomeridiano, avvicinare gruppi di giovani alla fotografia. Io penso che se ogni fotografo, ma alcuni non potranno magari perché risiedono fuori, ma se ogni fotografo dedicasse una o due ore di questo pacchetto educativo alla educazione, alla fotografia, rivolta ai giovani, faremmo una cosa interessante e veramente utile. E non posso fare a meno di citare che trent'anni fa, 1991, come è scritto sul retro, novembre, aprile 91, il distretto di cui faceva parte, il distretto scolastico, presidente Lidia Ferrara, pensò ad una iniziativa come questa, cioè di avvicinare i giovani delle scuole alla fotografia. Furono coinvolte le scuole elementari Marconi e Giovanni XXIII, parteciparono varie classi e con l'aiuto importante di Pino Bonasia fu allestito un laboratorio di camera oscura. I ragazzi andarono prima in giro a scattare, a fare foto anche dei compagni e poi a svilupparle e a stamparle in camera oscura. Fu un'esperienza unica del resto se leggessi i commenti di questi ragazzi. Se potessi comprare gli attrezzi adatti potrei addirittura stampare e fotografare per tutta la vita. Se da grande avrò la possibilità di diventare fotografo, lo farò con molto impegno. Giuseppe Martucci. Al momento dello stampo ero molto emozionato e troppo insicuro. Pensavo che fosse molto difficile, ma è stato abbastanza semplice. Analisa Labate. Così tanti altri. Sono riflessioni. Aspettavo il mio turno. Ero quasi davanti all'ingreditore per riprodurre la mia fotografia. Il cuore mi batteva. È arrivato il mio turno. Mi sono avvicinata all'apparecchio. Avevo paura. Ma ecco, si spegne la luce, perché in camera oscura bisogna lavorare così, e con coraggio e prudenza mi metto all'opera. Qualche secondo di trepidazione e vedo che la mia fotografia è riuscita. Che gioia. Eccetera, eccetera. Ecco, esperienze come queste poi restano per tutta la vita, sono fornative e riescono a dare un, come dire, profondità all'animo dei giovani che bisogna cercare di fornare ora, perché ne in questa fascia di età, dai 7 ai 15 ai 18, poi diventa tutto molto più difficile. I ragazzi giovani sono delle spugne, come spesso dicevo ai miei insegnanti, quindi basta seminare. Se l'associazione Arte Emozione coglierà questo invito, io mi metto a disposizione per dare alcune ore in un eventuale pacchetto educativo da proporre alle scuole. Grazie. Ecco, senz'altro sì, senz'altro sì, Piero, perché è un progetto molto interessante, e bene hai detto con la tua presenza. Ecco, in ultimo volevo chiederti se ci puoi regalare quegli appunti. Certo, ecco l'altro. Grazie, è molto pregno di cose. Grazie.